Questo video riguarda i migliori 3 Smart TV Samsung. Il vincitore della qualità nel nostro Smart TV Samsung va al Samsung UE 50 unità astronomiche 717. Con la tecnologia Pure Color, sperimenterete un'azione realistica mentre guardate, inghiottendovi come se foste i personaggi principali della storia che state guardando. L'upscaling 4K avanzato ti dà una qualità 4K premium e la sofisticata tecnologia di mappatura del colore ti porta nel mondo delle infinite sfumature esattamente come gli sviluppatori hanno voluto. Il Samsung migliora e regola il contenuto visualizzato colpo per colpo, così anche le scene dinamiche sono meravigliosamente lisce e nitide. Le scene notturne e serali al buio possono essere impegnative per i normali televisori e spesso perdono dettagli fini. Il Samsung offre colori meravigliosamente ricchi con una risoluzione di 4 volte più pixel per un'immagine davvero suggestiva e nitida. Il Samsung offre quindi la tecnologia intelligente Q-Symphony, che consente di continuare a riprodurre l'audio dal Samsung stesso dopo aver collegato una soundbar compatibile. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Samsung E32T5372. Con il suo design elegante e sottile e le sue dimensioni ridotte, lo Smart TV Samsung FHD da 32 minuti è perfetto per i tuoi spazi. Goditi il meglio dell'intrattenimento con le migliori applicazioni come Netflix, Disney+, Dazon e molte altre ancora, grazie alla piattaforma Smart di Samsung. Ottieni colori più realistici, naturali e intensi e vivi un'esperienza unica senza precedenti con la tecnologia Pure Color. Scopri dettagli ultra definiti e sfumature di colore spettacolari grazie alla tecnologia High Dynamic Range. Inoltre, questo TV è già predisposto a ricevere il nuovo digitale terrestre 2.0. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della performance premio nel Smart TV Samsung è il Samsung Smart Monitor M5. Il primo monitor al mondo con Smart tab, servizio di streaming multimediale, hot, integrato, accedi alla più vasta raccolta di app per Smart TV tra cui Netflix, YouTube, Prime TV e Disney+, con telecomando e senza collegamento del PC. Collega il tuo PC, telefono cellulare o la più recente console di gioco allo Smart monitor tramite HDMI, Bluetooth o AirPlay. Monitor FHD da 32 pollici, HDR10, con design sottile, elegante e senza bordi su tre lati. Assistenti vocali multipli. Controlla tutto con la tua voce con Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant. Modalità Eye Saver e Flicker Free? Riduce l'affaticamento degli occhi per una visione più confortevole. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.